È una giornata straordinaria, come lo è stata la giornata straordinaria quella di Don Ciccio Savino, come lo è stata la giornata straordinaria quando il Vescovo Palmieri c'è un onore della sua presenza a Bitonto. Ebbene, mi piace richiamare questi tre aspetti, entrambi tre Vescovi attuali, e davvero per Bitonto è un momento importante. Su Don Vito è chiaro, va la nostra vicinanza per quello che ha fatto nella nostra comunità, per quello che ha fatto all'interno del santuario, all'interno della basilica, all'interno della fondazione. Davvero la presenza di Don Vito, seppur in questi pochi anni, perché sappiamo benissimo che solitamente meno di 9-10 anni un sacerdote non rimane nella propria parrocchia, quello che ha fatto in questo breve tempo davvero è molto significativo. La sua presenza, i suoi segni sono davvero percepiti dalla nostra città, dalla nostra comunità. Davvero diventa un modo anche per creare quello che chiamiamo una comunità allargata? È un bel momento, oggi dicevo ad alcuni religiosi di Rieti che Don Vito davvero è una grazia per la comunità, così come lo è stata per noi, per la comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto, adesso è una grazia per la terra di Rieti. E quindi davvero questo momento ci accomuna, ci fa sentire tutt'uno, davvero con le interlocuzioni, con chi io mi sono interfacciato appunto per questo momento, per questo evento. Davvero subito siamo entrati in empatia, si è creata una empatia particolare. Siamo davvero molto vicini perché riteniamo che la figura di Don Vito, la presenza di Don Vito sia una figura che unisce e ci unirà in un percorso di vicinanza, ci unirà in un discorso di carità, ci unirà in un percorso di fede ma soprattutto davvero di unione fra i due territori.